Salve a tutti, sono Antonella Tanzi. Il 22 maggio prossimo sarò all'Istituto Italiano di Cultura di Hamburgo per parlare del mio romanzo Questo giorno che incombe, appena pubblicato anche in Germania, all'interno degli incontri per la settimana europea. Sono davvero molto felice di esserci, sarò molto felice di incontrare i lettori che vivono in Germania, che è un posto con cui ho un bellissimo rapporto, perché è veramente un posto che è nel mio cuore. E poi è sempre molto bello avere degli scambi con dei lettori che vivono altrove e che non potresti raggiungere così facilmente come puoi raggiungere quegli italiani. Quindi ringrazio l'Istituto di Cultura, ringrazio di cuore l'Istituto di Cultura per avermi dato questa possibilità. non vedo l'ora di esserci, di incontrarci, di abbracciarci e di parlare di questo giorno che incombe e dei libri che ci piacciono. Un abbraccio a tutti e spero di vedervi.